Oggi pomeriggio abbiamo presentato qui a Modena il sistema costruttivo Isotex che è un sistema che con l'utilizzo di blocchi cassero realizza delle pareti con caratteristiche di antisismica, di isolamento termico e acustico. Il cassero è stato realizzato con un impasto di legno e cemento, il legno è abete pulito dalla corteccia che viene mineralizzato, impastato con il cemento e poi i blocchi vengono una volta fatta tutta la maturazione, vengono fresati e portati alla dimensione desiderata. All'interno del blocco verrà poi inserito quest'ulteriore strato isolante per rendere l'isolamento a cappotto dell'edificio. La parte interna verrà opportunamente riempita di calcestruzzo più o meno armato di ferro a seconda delle dimensioni della struttura, della zona sismica in cui si andrà a costruire e nella forma appunto dell'edificio che dovrà essere calcolato da un ingegnere. Un altro sistema per isolare la parete può essere quello dell'inserimento di sughero, sughero nero naturale. Con questo sistema costruttivo vengono realizzati edifici in ogni parte d'Italia, oramai esportiamo anche in Europa, si possono realizzare edifici a più piani eliminando completamente il telaio a travi e pilastri. Un'altra caratteristica molto importante di questo sistema è che il legno mineralizzato, pur essendo legno, perde tutte le sue caratteristiche naturali, quindi non brucia perché appunto con la mineralizzazione si arriva a resistenze di 180 minuti o addirittura sui solai a 240 minuti. I valori di isolamento termico e acustico che raggiunge la parete sono valori al top di gamma, con blocco esempio come questo di 44 centimetri con 18 di graffite, si arriva a una trasmittanza come si può vedere di 0,17 watt al metro quadro che permette appunto di arrivare a costruire casi con alta caratteristica termica di isolamento.